Un tapascole, un tapascole, c'era una volta, una volta, un'isola isolata, bellezza, belleggiamento, verde, argento, trapparezza, crespa, libera, cuba di nome, cuba di fatto, isola di natura, meraviglia, di cultura, morte, viramento, guantanamo, guantanamo, guantanamo. Novembre 2001, ordinanza militare, presidente George W. Bush, in forza all'autoritario presidente, e comandante e capo delle forze armate degli stati, uniti d'America. Si ordina, soggetti capaci di terrorismo internazionale saranno messi in condizione di non muocere più al nostro paestro. Sergente John Vomit, 79esima divisione, falteria degli Stati Uniti d'America, con incarico nell'ultimo avamposto americano in territorio comunista, lo J.D.F. 160, Joint Task Force Guantanamo, 160, GIGMO per gli amici marines. Hanno 2002, tutti i combattenti nemici, sospettati di terrorismo, trasferiti qui a Camp Delta, nel cantiere della segregazione della meravigliosa Baia di Guantanamo, che costa agli Stati Uniti d'America solo 4.085 dollari l'anno di affitto, e questo dal 1903. Ogni anno, centinaia di rifiuti umani di nazionalità mediorientale, osiatica e di religione islamica arrivano qui. Camp Delta, tre bracci di sei blocchi in uno separati tra loro. Totale, 18 celle d'acciaio a nino d'ape. Livelli di detenzione. Primo livello, si può prendere aria tre volte a settimana per 30 minuti, più 10 minuti per la doccia e la marma. Secondo livello, aria tre volte a settimana per 20 minuti, più 10 minuti per la doccia e la marma. C'è il Campo Iguana. Due costruzioni in cemento che si affacciano sull'oceano. E' sulle scogliere che te ripienessa. E' un posto per i prigionieri bambini di 15 e 16 anni. Vesciuti, travi e terrori. Trattamento 000. Eletroshock con bascone elettrico. Scariche di 8 secondi. Trattamento 001. Somministrazione di sostante tossiche che al te non lo mettono. Trattamento 0014. Accoppiamento con il cadavere. Di altro detenuto. Trattamento 0015. Obbligo di nutrirsi del cadavere di altro detenuto. Altro detenuto. Altro detenuto. Altro detenuto. Muore. Mani laburi. Cuore laburi. No. Leccante. Catene gabbia. Disegno di sonido d'aria. Ritorno stop. Luce 24 ore. Speranza morte. Putrefazione. Vento, polvere, calce. Cantiere eterno. Crogiolo cattura respiri. Segregazione incessante. Ricordo l'Afghanistan. Sacro e monodizio. Cattuccio asfissia. Catene e bisturi strati. Salmo di sperazione. Cultura. Mondo prenotenza. Mondo superficie inquinamento. Mondo profondità inesplorata. Spirito, cervello assenza. Violenza inutilità. Respiro consumismo. Omicidio. Omicidio. Insensibilità sternita. Di batti di diverso colore. E fame, sete, sopravvivenza. Epilogo superodinus. Epilogo superconsens. Epilogo superconsens. Epilogo superdenius. Aprivo la vescica che mi scoppiava. Che c'è? Non ti piace il mio te? Oppure sul corano c'è scritto che non puoi berdo se te ne offri un fedele. È così che ci chiamate voi, non è vero? Bisogna rispettare il corano e la sciarina. È così che si chiama la vostra legge sacra. Terrorista di merda. Non hai idea di quante cose eccitanti di faremo qui dentro. Carne di maiale. Per onorare il vuoto. Non vorrei mica fare il digiuno. Neanche a pensare. Qui non si butta via niente. Qui ci sono di mezzo ai soldi degli Stati Uniti. E i soldi degli Stati Uniti sono il frutto del mio lavoro. E li sono guadagnati uno ad uno onestamente. Certificando ogni istante della mia vita. E adesso in ginocchio ti ammangia. Ti ammangia. Bravo. Credo che lecchi bene. Buon appetito, figlio di Allah. E per premio gli offrò anche da bere. E per premio mangia tutto, mangia, che ci serve bene in forza KBR Somalia KBR Arabia Saudita KBR Haiti KBR Kosovo KBR Bosnia KBR Questa è la battaglia che deve bene controllare 11 settembre 2001 La tortura è un crimine contro l'umanità La tortura è un crimine contro l'umanità Io cattivo Io assassino Io colpevo Io colpevo Io colpevole 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 Iouffsino Ioastina Io coach greverò Io coso Io chilpevole Io Io Lilly Grazie a tutti.